ciao a tutti sono roberto fabris oggi vi voglio parlare dei rullanti steel drum ci tengo a ringraziare marco stella che mi ha dato questa opportunità di provarli che io sono rimasto veramente colpito dalla costruzione veramente in modo maniacale di questi rullanti voglio parlarvi del modello colors la misura del rullante è 14 per 5 e mezzo il fusto è in acciaio grezzo verniciato con finitura blu vinni lo spessore è di 1,2 mm con i bordi ripiegati all'interno a 10 blocchetti in ottone cromato i cerchi in tripla flangia da 2,3 mm con tendicordiera modello gibraltar ha un meccanismo con sordina interna con pomello in ottone con cordiera in bronzo a 16 fili ora ve lo farò sentire in tonalità bassa in tonalità media e in tonalità alta andiamo a sentirlo un buon sì imparato Grazie a tutti. Grazie a tutti.